Altro che sesso debole, altro che gentil sesso, l'altra metà del cielo che tutela ed assicura la tenuta dell'ordine pubblico in città, è stata al centro della interessante puntata di Agorandata in onda ieri sera su Canale 10. Sfatando consolidati tabù e di soliti luoghi comuni che volevano solo i maschi ad occuparsi di alcuni settori strategici come quello delle forze dell'ordine, sono state proprio loro, le donne, al centro del fortunato rotocalco settimanale della nostra emittente televisiva. Donne che ricoprono funzioni apicali nelle tre forze dell'ordine presenti in città e quindi nella Polizia di Stato, nei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, oltre che nella Magistratura. Gela vista con gli occhi di chi gelese non è, ma che ha scelto di svolgere in questa nostra complicata città la loro missione professionale. Città vivace, come l'ha elegantemente descritta la dottoressa Lara Seccacini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Una vivacità che in passato ha creato fortissime problematiche al quieto vivere civile, ma che se fosse trasformata questa vivacità in fantasia e carica culturale, potrebbe diventare davvero sconvolgente e impositivo per l'andamento di una città in grave crisi. Con il magistrato in studio, assieme al conduttore, anche il commissario capo della Polizia di Stato di Gela, dottoressa Laura Romano, ed ancora il maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, Angelica Zarba, ed il maresciallo della Compagnia dei Carabinieri di Gela, Valeria Rotondale. Tutte donne in carriera, tutte non gelesi, eppure legate a questa città e a questo territorio nel quale stanno svolgendo la loro carriera professionale. Tutte, peraltro, d'accordo all'unisono che Gela si può e si deve cambiare. Tutte concordi, insomma, che le straordinarie potenzialità di questo territorio possono dare la stura ad una nuova e più radiosa prospettiva futura. E tutte, nel frattempo, impegnate ad assicurare l'ordine e la legalità in una città che spesso non è proprio andata perfettamente in armonia con questi concetti basilari del vivere civile. Tanti gli spunti emersi nel corso dello stuzzicante dibattito che è scaturito dal salotto televisivo di Agorà. Chi volesse rivedere questa interessante puntata del nostro talk del venerdì sera potrà farlo con la replica integrale, che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10, oppure sui nostri indirizzi social, ossia il sito internet del tg10.it e sul profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, come sempre con ospiti ed argomenti che riguardano Gela e Digelesi.